Non si deve preoccupare Esatto E Ronaldis Correrà con lo squadrone BMW Quindi hanno accennato Ma il risultato di BMW 2 È completamente in me C'è una connessione Perché lui di solito guida una Mini Che fa parte della BMW Esatto Un'altra parte Sì, è rimasto un po' dietro Non sbaglio, arriva l'altro Uno 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 Ah La Ferrari 500 Mondria Devo vedere qui c'è adorare per salutare Dieter Ross, Vanemarty, Porca e Sampan La Ferrari 500 Mondria Tutto Tu First Qu'boat Di Poi Arreglie Tri Sotto Quentin D Certo Sotto Si Now Sotto Sotto Sci Grazie a tutti